Ciao a tutti e benvenuti su Azalea Channel Oggi siamo tornati con un nuovo episodio di The Sims 3 E siamo a martedì notte Volevo farvi vedere una cosa Se andiamo su Catrina, guardate un po' che mood le compare Tra 33 minuti, nausea Catrina non si sente affatto bene E' meglio che stia nei paraggi del bagno Quindi mi sa tanto ragazzi Che nell'episodio scorso Catrina è rimasta incinta davvero Ancora non c'è comparsa la notifica Però la volta scorsa c'era la musichetta, quella classica Che compare quando appunto la Simina rimane incinta In più adesso ha la nausea Quindi tutto fa presupporre che veramente sia rimasta incinta Quindi non ci resta altro da fare che aspettare la notifica Ora però c'è un piccolo problema Cioè io stavo un attimo giocando con loro per sistemarli un attimo E guardate che cosa c'è Anzi, chi c'è alla porta di ingresso? Ebbene sì C'è un ladro Cioè stiamo per essere derubati ragazzi Guardate un po' Questo tizio ha appena aperto la porta di casa Tra l'altro Mi sa proprio che io non ho neanche l'allarme Quindi ho paura che ci ruberà un sacco di cose Per cui Sebastian Alzati immediatamente E anche tu Catrina Lo so che hai anche la nausea poverina Però Catrina intanto mi sa che Le facciamo chiamare subito la polizia immediatamente E non so se Sebastian può fare qualcosa Magari tipo Massacrarlo di botte Sarebbe una bella cosa Sebastian No accidentaccio Non c'è l'allarme No Non possiamo fare niente C'è anche cliccando su di lui Non mi dà interazioni Dobbiamo qui Aspettare che ci rubi tutto Sebastian Forza Dai Catrina Chiama subito la polizia No No maledetto Un momento Vediamo se riusciamo a fare qualcosa No ragazzi Non c'è interazione Neanche a dire che possiamo Provare a fermarlo In attesa che arrivi la polizia Questo Ci ha rubato il televisore E se ne sta andando No Addio televisore Guardate qui Furto Mannaggia Eh Catrina neanche Ormai è inutile pure Che chiamano la polizia Accidenti Mi devo ricordare A mettere l'allarme Ragazzi Perché Veramente No Uffa Il nostro bel televisore Adesso Dobbiamo ricomprarlo Eh sì Catrina Ormai il ladro Se n'è andato Cioè È inutile che stai così Tra l'altro Ecco Mi sa che adesso Vomiterà anche Poverina Niente Siamo appena stati Derubati Per la seconda volta Perché se vi ricordate Era già successo Mi devo assolutamente Ricordare Di mettere questo Benedetto allarme Altrimenti La vedo difficile Vabbè Sebastiano Tornate a dormire E non ci pensare più Catrina Pure tu Lascia perdere Ah è arrivata la polizia Beh Alla buon'ora Direi Veramente Sì Siete proprio utili Ad arrivare tipo Cinque ore dopo Ma Ok Mannaggia Senta lei Che stava A prendersi un caffè Invece di venire qui Mentre noi Eravamo derubati Eh Eh Dica Adesso chi ce li ridà I soldi per il televisore Purtroppo Il landro è riuscito a scappare La prossima volta Lo prenderemo Eh sì Come no Insomma Abbiamo capito Che la polizia Non funziona Benissimo Qui abbiamo la posta Intanto prendiamo le bollette Già che ci siamo Sì Signor poliziotto È stato davvero Molto utile Devo dire Se ne può anche Tornare a casa Grazie Ma guardate Catrina Prendi la posta Ce ne torniamo A dormire Che ti devi riposare Qui arrivano Lettere d'amore Su lettere d'amore Vabbè Lasciamo perdere Andiamo Andiamo va Torniamo A dormire Mannaggia Daniel per fortuna Non si è svegliato Va Meno male Almeno gli abbiamo risparmiato Questo piccolo trauma Va bene ragazzi Dai li facciamo dormire Li facciamo riprendere Un attimo E poi Domani mattina Così Iniziamo la giornata Con il televisore In meno Magari adesso Io lo ricompro Tanto i soldi Per fortuna Un pochini Ce li ho Eccoci qua È mattina presto E adesso loro si sono alzati Per fare colazione Tutti insieme Vedete che ho Ricomprato La televisione E Questa volta Ho anche però Comprato l'allarme Piazzato qui Così Se si ripresenta un ladro Questa volta Siamo preparati Mannaggia Guardate Con quanti pochi soldi Siamo rimasti Cioè 1.100 simole Da 5.000 Che ne avevamo E va bene Che ci vogliamo fare Ah mi è appena poi Comparsa la notifica Che oggi È il compleanno Di Ares Infatti Giorni mancanti Al passaggio Di età Zero Quindi nell'episodio Di oggi Sicuramente Lo vedremo crescere E poi Mi è arrivata Anche la notifica Che oggi Daniel sta a casa Per il giorno di neve Perché siccome Ha nevicato tantissimo In questi giorni Le scuole sono chiuse E quindi Daniel ha un giorno Di vacanza Per cui ce ne stiamo Qui a casa E magari facciamo Qualche bel pupazzo Di neve Qui fuori in giardino Visto che nevita così tanto Ne approfittiamo Per fare qualcosa Di carino E invece Sebastian Se ne deve andare Al lavoro Tra due ore Sì Lui invece al lavoro Ci va Qui abbiamo questi gnomi Che compaiono in mezzo Va bene Sì dai Rimettete tutto a posto Uh È arrivata L'auto Per Sebastian Vai vai Non ti preoccupare Uh Sì qui come al solito Si creano Gli ingorghi Va bene Dai Daniel Lava questo E poi magari Ti metti L'abidi Per l'aria aperta E ne approfittiamo Di questa bella Giornata Di neve Anche tu Catrina Ah Magari però Prima Sì Riponiamo Gli avanzi In frigo Così abbiamo Questa bella Torta Da mangiarci Anche Nei giorni Successivi Allora Quindi Sebastian Sì è andato Al lavoro Perfetto Vediamo i nostri animali Come stanno Beh Oggi c'ha tanta neve Quindi comunque Direi Di stare un po' qua In casa L'unica cosa È che magari Con Catrina Voleva andare A comprare Però le angurie Perché come vi dicevo L'altra volta Le angurie Aumentano la probabilità Che il La nascita Del Del bimbo Sia femmina Cioè Sì Insomma Che nasca appunto Una femmina Quindi siccome Io vorrei Una bambina Visto che abbiamo Già Daniel Gli facciamo mangiare Un po' di angurie Allora Daniel Vieni qua Qui fuori E cominciamo a creare Un bel pupazzone Di neve Guardate che bello Quanta neve che c'è Con tutte qua L'auto Embiancata Guardate Vi faccio vedere La mappa Tutta bianca Cioè Bellissima Ah Tra un paio di giorni Poi c'è anche il festival Quindi Poi magari ci andiamo Probabilmente Nel prossimo episodio Eh Catrina Appena Hai ripulito Qui la torta Mettiti anche tu Gli abiti Per l'aria aperta Vai Mettiteli E Usciamo qua Creiamo un bel pupazzo Insieme a Daniel Mettiamoci qui Questo lato Della casa Dai vai qua E comincia tu Daniel A creare un pupazzo Di neve Con Catrina Uh Qui c'è la bimba Che intanto ci porta I giornali Che sono sommersi Dalla neve Daniel ha saltato La scuola In un giorno di gita Eh Ok però Era chiusa La scuola Che ci vogliamo fare Fa niente La farà La prossima volta Dai Adesso fate un bel pupazzo Di neve Insieme Mamma e figlio Dai mamma Andiamo a fare un pupazzo Di neve Approfittiamo Di tutta Questa neve Che è caduta Questa notte Uh Qui c'è un piatto sporco Lo levo io va Ok Eccoli qua Stanno andando Vediamo che cosa creano Un bel pupazzetto Ah Si mettono qua E va bene Ugo Tu come stai? Ma stai benissimo Direi bravo Bravo Corri in giro Vediamo un po' Twink Sta giocando Qui con Linus Ok bravi Dovete stare un po' Al caldo Che Fa Eh si Fa decisamente freddo 9 gradi Meno 9 gradi Oddio Guardate Ares Poverino E' tutto sommerso Dalla neve Piccolino Eh ma tu mi sa Che è meglio Se te ne stai A casa eh Eh stai andando Da Linus Ok bravo Così almeno Entrate nella stalla E' stato un po' Al caldo Oh ecco qua Guardate che carini Ma mio figlio Che fanno un pupazzo Insieme Ecco qua Una bella fotina Che poi mi sa Che mano a mano Che facciamo pupazze E diventiamo più bravi Possiamo crearne Di vario tipo Invece Invece Sebastian Che gli è successo Che sta di umore Infuriato Ah vabbè Giustamente E' ancora arrabbiato Per il furto Eh lo so Sebastian Ma non ti preoccupare Che adesso abbiamo messo L'allarme Tranquillo Non succederà più Oh ecco qua La testa Così almeno Loro anche Si divertono E passano un po' Di tempo Insieme Oh ecco qua Ancora non mi è arrivata La notifica Che Catrina è incinta Ragazzi però Dai lo è C'è la musichetta C'è la nausea Lo è sicuramente Oh eccolo qui Daniel ha appena scoperto Come creare Un pupazzo di neve Classico Guardate che carino Con la carota Al posto del naso Giustamente Molto carino Vogliamo provare A creare Vediamo se ci dà La possibilità Di creare Un altro Tipo di pupazzo Si vedete Crea un pupazzo di neve Classico O casuale Direi casuale Vediamo che cosa ci dà Questa volta Però lo fa da solo Perché Catrina Appunto Volevo farle andare A comprare Queste angurie Se no poi Mi dimentico E credo che Al negozio Dovrebbero esserci Vediamo un attimo Ecco qua Al supermercato Negozio di alimentari Fai la spesa Vai Catrina Vediamo se troviamo Le angurie Perché altrimenti L'unica È cercare in giro I semi E piantarle Però spero Di Trovarle al supermercato Perché ovviamente Facciamo prima Qui che cosa ci dice Sebastian Buona gestione Di documenti Obiettivo Seleziona Consegna i documenti All'ufficio affari Prima dello scadere Del tempo Per ricevere un aumento Eh beh Sì Direi che accettiamo L'opportunità Sì sì Ok Catrina sta andando In bicicletta Poverina Probabilmente anche Incinta Ma va bene Lei la macchina Proprio non la vuole Prendere Perché ha una Tipa ecologica E qui abbiamo Lasciato Daniel A creare un pupazzo Vediamo se ce ne fa Un altro classico Uguale Oppure ne scopriamo Un nuovo tipo Qui intanto abbiamo Sempre Ares Che poverino Fa una fatica immensa A correre Nella neve Che sta facendo Fiuta Ma Ares Dai vieni qua Gioca un pochino Con gli ossi Così stai al caldo Catrina è arrivata Dai ci siamo quasi Compriamo Un bel Delle belle bustone Piene di angurie E ci mangiamo Praticamente Solo quelle Voglio troppo Una femmina Ragazzi Quindi Mi dispiace Catrina Ma per i prossimi giorni La tua dieta Sarà angurie A colazione Pranzo E cena Non proprio il massimo Ma tant'è Ecco Vediamo se la troviamo Angurie Allora andiamo su frutta Vediamo Eccole qua Perfetto Ce ne prendiamo Ma io direi Una decina Sì Tanto Insomma Non costano tantissimo Quindi vai Perfetto Quindi adesso Torniamo a casa E te ne mangi subito una Vediamo intanto Se Daniel Qua ha finito Di creare Il pupazzo Sì Ha finito Però Mi sembra Che sia Sì Sempre quello classico Ok Quindi praticamente Creando vari pupazzi Alla fine È possibile Che ne escano Di diversi tipi Però per il momento Abbiamo scoperto Solo quello classico Vediamo se possiamo Creare Qualc'altra Cosina Uniglue Dai Daniel Approfittiamo Della neve E facciamo Tutte le costruzioni Possibili Tanto qui Guardiamo sempre Gogo Sta a posto Twink Dove sei andato? Ok Sta scorazzando In giro Però sta bene Linus Anche Ok Oh guardate qua Che bravo Daniel Bravo Catrina È arrivata Perfetto Puoi aiutarlo? Aiuta a costruire L'iglue Dai Così almeno Facciamo prima E penso che poi Una volta costruito L'iglue Possiamo anche Entrarci dentro Quindi È carina Questa cosa Dai dai Prima che torna Sebastian Li facciamo trovare Questa bella casetta Di glue Quando torna Oh Linus Grazie che ci hai portato Il giornale Che vuole fare Linus Giocare con un altro animale Sì dai Facciamolo giocare Insieme ad Ares Allora Ares Vieni qui E anche tu Linus Così giocate un po' Insieme Uh eccolo Guardate che bello Vediamo un po' Che interazioni Si possono fare Rilassati Dormi Fai un pisolino E ordina di fare La guardia Che divertente Allora Facciamo gioca Daniel lo facciamo Giocare nell'iglue Vediamo che fa Tu Catrina Mettiti seduta qui E ti mangi Giusto appunto Le angurie Che abbiamo preso Mangia mangia Vai Un paio di angurie Ecco Daniel è entrato dentro Però Non si può vedere Cosa sta facendo Però sta giocando Gli si sta divertendo Ok Catrina Brava Mangiatene una Vediamo se Hai ancora fame In realtà In realtà Ok vabbè Aspettiamo che Le venga di nuovo Fame E poi Le diamo sempre L'anguria Intanto Gioca un po' Con Twink Va Gioca No Insegui no Perché sono uscite Fuori di casa A carezza Coccolalo un po' E sbaciucchia Ok Daniel però A questo punto Lo facciamo uscire Perché prima Era compasso Il muda Che aveva piuttosto Freddo Poverino Dai lasciamo qui E andiamo un attimo A sistemarci Usa E a questo punto Ragazzi Ah ecco Sebastiano appena Tornato Perfetto Ah giusto appunto Che è tornato Vi voglio far vedere Una cosa Nell'igloo Che si può fare E In teoria Si poteva fare Fichi fichi Nell'igloo Quindi vediamo Se Di provarci Appena torna Li facciamo rilassare Qua dentro Perché mi sembra Se non ricordo male Che c'era appunto Questa interazione Quindi adesso Magari la vediamo Insieme Ok Daniel sta facendo Pipì Va bene E adesso Teniamolo sott'occhio Che tra poche ore Dovrebbe Crescere Così vediamo Finalmente come diventa Tanto mangia un pochino Che hai fame Sono curiosa Di vedere proprio Se diventa un cane Di taglia piccola Cioè di taglia media O di taglia grande Visto che Il papà Era di taglia grande E la mamma Di taglia piccola Quindi chissà Oh ecco qua Sebastiana Che è tornato E' ancora arrabbiato Per il furto Poverino Dai Sebastiana Fattelo passare Ehm Ah un attimo Però a Catrina La mandiamo In bagno Che se no Non fa niente E vediamo un po' Se mi ricordavo Bene No Sebastiana Devi rilassarti qua Dai dai che adesso Arriva anche Catrina Non ti preoccupare Tu comincia ad entrare Sì vedete ragazzi Coccola nell'iglue Fai fighi fighi Eccetera eccetera Quindi dai Fai fighi fighi Lo accogliamo Dal lavoro In questo modo Questa cosa carina Dentro l'iglue Sì Eccola qua Vediamo un po' Questa interazione Ovviamente Non si vede Niente dentro Però Eccolo qua Guardate Le luci Che si accendono Dentro Sì Intanto è arrivato Anche GoGo A vedere Cosa sta succedendo E va bene Dai Usciamo Niente GoGo Non succede niente Dentro l'iglue Non preoccuparti Allora Ormai Non dovrebbe mancare Tantissimo Al compleanno Di Aras Qualche oretta E ci siamo Prima però Di fare questo Volevo fare Un'altra cosa Con Sebastian Siccarina Intanto tu corri In bagno Assolutamente Ovvero Volevo 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 Approfittare Del fatto Che lui Sta vivendo Questa crisi Di mezza età E quindi Avevo pensato Che siccome Gli capitano Dei desideri Un po' Strani E particolari Lui a causa Di questa crisi Di mezza età Vuole fare Una specie Di follia Diciamo così E vuole Farsi Un tatuaggio Quindi andiamo A visitare Il salone Il negozio Di tatuaggi E ce ne facciamo Uno Eh sì Perché Sebastian Non accetta Di stare invecchiando Si sente ancora Giovane E quindi Vuole fare Questa cosa Noi intanto Teniamo sempre Sotto occhio Ares Vediamo qua Uh Deve andare In bagno No Questa è Catrina Però Ares Sta abbastanza bene Perfetto Ecco Magari Mettiti qua Fai un po' Di spazio E intanto Seguiamo Sebastian Che Non siamo mai andati Poi in In questo salone Quindi Vediamo anche Una cosa nuova Insieme Eccoci qua Sperando Che a quest'ora Ci sia qualcuno Che ci possa Appunto Fare Un tatuaggio Balla insieme No Sebastian Che stai Facendo Abbassiamo Un attimo Ecco No Non ci devi Ballare insieme Ho capito Che c'hai Una crisi Di mezza età Però No Non era questo Lo scopo Allora Intanto che si carica Io qui Cerco Una sedia Diciamo così Fatta apposta Per fare i tatuaggi Che dovrebbe essere Questa qui Se non sbaglio Sì Eccola qui Fatti fare Un tatuaggio 150 Simoleon Assolutamente Sì Tanto vi faccio dare Un'occhiata veloce A com'è Questo salone Qui praticamente C'è la possibilità Di cambiare Di farsi rifare Il look Da solo Oppure da qualcuno Quindi come se vai Magari in un parrucchiere Oppure appunto Presse uno di questi Che ti suggeriscono Come vestirti Che ti danno consigli Di moda Poi invece Da questa parte C'è Un piccolo salottino Appunto qui Le sedie Per fare i tatuaggi E al piano di sopra Più o meno C'è La stessa cosa Vedete Sempre qua Per rifarsi il look E da questa parte C'è Un po' Anche Sempre la storia Di tatuaggi Un po' Una sala hobby Diciamo così Ma adesso Andiamo a rifarci Questo tatuaggio Andiamo Sebastian Uh ragazzi Aspettate che intanto È il compleanno Di Ares Sta per crescere Un attimo Un attimo Dove sei Ares? Eccolo qui Prepariamoci Siamo pronti Per vedere Come diventerà Eccolo Eccolo che ulula Uh Mannaggia Mi sa che Ha fatto pipì qua Eh vabbè Dai Non fa niente Coraggio Catrina Vieni qui Vieni vicino a lui E anche Daniel Vieni Il tuo cucciolino Sta per crescere Siamo pronti Eccolo qui Oh Che carino È un cane Di taglia media Alla fine Guardate che carino Ha praticamente Il viso di Linus Del padre E il corpo Della mamma Di Giglio Tigrato Vedete? No dai Fatti vedere bene Vieni qua Con queste orecchiotte Così lunghe lunghe Che carino Vieni Daniel Vieni a conoscere Il tuo cucciolo Che adesso È cresciuto E affetto Accarezza E così Anche il nostro Ares È diventato Un cane Adulto Molto Molto Carino Eccolo E vediamo Intanto Qui Che cosa Combina Sebastian Che l'abbiamo Un po' Lasciato In valia Di se stesso Ah ma Lo sta facendo A caso Ah mi Sembrava Che potessi Scegliere io Che tatuaggio Fare Cioè che Mi riportava nel cas E potevo Scegliere il tatuaggio Invece Non sta facendo Questa tizia Chantrell Ok Speriamo Che faccia Qualcosa di decente Ho Un po' Di paura Non è che escono Fuori Tatuaggi Super Mega Enormi E strani Di cui Voici Significati Ma Vabbè Staremo a vedere Fa male Sebastian No Lui Tutto sommato Sembrava Abbastanza Tranquillo Che uomo Sebastian Sprezzante Del dolore Ok dai Torniamo Intanto Dares E quando Ha finito Vediamo un po' Che cosa Ha combinato Sebastian Sì che Qui C'è un po' Di sporcizia In giro No Cosa mi dice Questa tizia Il tatuaggio Non somiglia molto Al modello Che hai scelto Beh veramente Non me l'hai fatto Scegliere Però Vabbè Però Se inclini la testa E strizzi gli occhi Somiglia a un lama Oh mamma mia No dai Che cosa ha combinato Questa tizia No No vabbè Che cos'è Questa roba Ma cosa Oh mamma mia No Vi prego Ditemi che vanno via Ma sei sicura Di essere una Tatuatrice No ragazzi Avete visto Che obbrovio Gli ha fatto Torniamo subito A casa Ci mettiamo Un attimo In costume E guardiamo Un attimo Meglio Non ci posso Credere No vabbè Erano Inguardabili Quei tatuaggi Bene Adesso vedo Se magari Scompaiono Dopo un po' Oppure se riesco A modificarli Nel cast Perché va bene Che Sebastian Sta attraversando Una crisi di mezza età E voleva fare una follia Però così È un po' assurdo Vedo se riesco Magari a sistemargli Non me l'aspettavo Questo risultato Devo essere sincera Bene Ok Eh Vabbè Qua intanto Diamo una rigolita Catrina Scusami Però Asciuga La pozza E poi Si Vatti a fare Un bagno Perché Mi sembra Il caso Visto che È lì Già Completamente Rossa Daniel Vieni qua Dai un bocconcino Ad Ares E Sebastian Per favore Vieni qua E facci vedere Quello che ha combinato Quella tizia Catrina Non so perché Sta indossando Questi vestiti Assurdi ogni tanto Ma penso perché Si è incinta Quindi gli da Questi abiti Premaman Così A buffo Va bene Sebastian Sebastian Vieni qua Mettiti il costume Da bagno Che devo vedere bene Quegli obbro No vabbè Ma che è sta cosa No Qui ci vuole Una foto Cioè È da immortalare Mamma mia Ma dai Vabbè ragazzi Entro nel cast E vedo un po' Se riesco a sistemarli Insomma A toglierli questi A fargli un tatuaggio Magari più decente Perché insomma La mia idea Non era questa Va bene Direi che a questo punto Possiamo concludere qui Con l'episodio di oggi Abbiamo visto Ares crescere Quindi da cagnolino È diventato Ormai un cane adulto Abbiamo scoperto Che è una taglia media Troppo troppo carino Fatemi sapere Se vi piace Catrina ancora non ci è arrivata La notifica Che è incinta Ma molto probabilmente Lo è Perché Aveva la nausea E perché Ah no eccola Non mi è apparsa la notifica Però c'è il mood Stato interessante Il meraviglioso potere Di creare una nuova vita Rende la gravidanza Un periodo eccitante Per molti sim Quindi sì ragazzi Catrina è ufficialmente Incinta Ecco perché Ha questi abiti assurdi Perché Non gli si possono cambiare E Tutto bene Oddio No vabbè Che faccia Assurda Catrina Mi sa che è un po' stanca Poverino E tra l'altro Guardate Anche lei Ha il desiderio Di avere una femminuzza Quindi continueremo A farle mangiare Le angurie Ok dai Ci fermiamo qui Con l'episodio di oggi Spero che il video Vi sia piaciuto Se è così Mettete like Mettete anche mi piace Alla mia pagina facebook Per rimanere sempre aggiornati Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate E noi ci rivediamo Nei prossimi video Ciao 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 Ciao